ciao ragazzi bentornati in dogcafè oggi perché questo video perché mi è arrivato un'email appena ricevuta da una persona della community di dogcafè e mi ha fatto una domanda perché era successo una cosa spiacevole ma dopo la sigla bentornati e vi leggo l'email naturalmente senza fare nomi non peraltro ma perché potrebbe essere d'aiuto ad altre persone allora questa persona questa ragazza dice quanto segue ciao fabrizio eccetera eccetera mi racconta che ero al lavoro mentre il mio compagno era a casa stava richiudendo il cancello e mina e il fratello con cui condivide con cui condivide il giardino sono schizzati fuori correndo e senza ascoltare mina ad un certo punto si è girata ma anche se bip non dico il nome del marito l'ha chiamata in maniera tranquilla lei ha continuato a correre io ho pensato che sarebbe stato meglio girarsi ed andarsene in direzione opposta perché forse l'avrebbe seguito ma non so fatto sta che sono arrivati fino in strada rischiando letteralmente la pelle adesso non continuo a leggere l'email perché il resto diciamo è irrilevante però penso che questa cosa possa essere importante per da condividere perché potrebbe aiutare qualcun altro che si trova in questa stessa situazione allora il giardino non è un posto sicuro per i cani al di là del fatto che ho fatto un video che ho chiamato il labrador non è un cane da giardino ma labrador ma potrebbe essere qualsiasi altro cane quindi cliccate qui se non l'avete visto ma non fissatevi sul labrador ma questo significa che un jack russell si può lasciare in giardino abbandonato no ho detto nel labrador ne ho parlato del labrador ma vale anche per tutti gli altri cani comunque dicevo che il giardino non è un posto sicuro perché è quella parte di territorio nostro territorio quindi anche del cane del nostro branco famiglia che è a confine diretto con il territorio straniero dove ci sono gli altri lupi che non si incontrano pensa il cane allora se io devo aprire il cancello perché devo uscire con la macchina o devo uscire io eccetera eccetera sto creando una falla sul sistema di sicurezza del territorio ed è chiaro che preventivamente devo mettere i cani in un posto sicuro per evitare situazioni di difficoltà il cane più controllato del mondo potrebbe per un qualsiasi motivo andare fuori schizzare fuori proprio come è successo a questa persona e allora sì che andiamo ad incontro andiamo incontro a pericoli seri poi fortunatamente si è chiusa bene e non è successo nulla ma quando siete in giardino e dovete aprire il cancello toglietevi dalla testa di insegnare al cane come spesso molti mi chiedono il resta perché deve stare lì ad aspettare che si apre il cancello no sono cose innaturali non succede e perché dobbiamo portare il nostro cane a stress non c'è motivo si lavora insicurezza fare gli sboroni da questo punto di vista non è il loro caso naturalmente ma mi riferisco a quelle persone che pretendono di controllare il cane mentre si apre il cancello eccetera ci sono cani che lo fanno cani che non lo fanno ma per un carattere loro per un profilo caratteriale loro ma noi non ne dobbiamo approfittare anzi io non mi sognerei mai di aprire il cancello anche con un mio cane più controllato libero perché qualsiasi stimolo che ci possa essere fuori anche una paura stessa una paura che deriva dal fatto che fuori il cancello non è un nostro territorio e il cane potrebbe percepire una paura fuori e quindi scappare avere una reazione spropositata che noi non possiamo controllare e quindi meglio prevenire questo è quello che bisogna fare ma nel caso in questione quando il cane va via la persona diceva non ascolta perché ti dovrebbe ascoltare non sei nessuno scusando la brutezza della espressione e non sei nessuno perché il cane ti ascolti perché se tu hai lavorato bene sulla tua leadership allora hai l'autorevolezza per dire per chiedere qualcosa al cane vieni qui sei uscita fuori dal cancello vieni e il cane viene ma è chiaro che se noi facciamo commettiamo un errore del genere apriamo il cancello il cane è libero e quindi scappa non ci siamo preoccupati abbastanza della sicurezza del nostro cane e quindi il cane questo lo percepisce chi si occupa della sicurezza dei membri del branco è il leader quindi non ci siamo comportati da leader e soprattutto in quel momento ma penso che ci siano problemi più alla base quindi diciamo da dover affrontare a maggior ragione in questo momento non abbiamo dimostrato un comportamento da leader e quindi il cane non ci ascolterà mai abbiamo dato dimostrazione di non essere dei buoni leader quindi perché il nostro cane ci possa ascoltare costruiamo la nostra leadership e allora il nostro cane dice bene ti sei comportato da leader ti riconosco come leader sono più propenso a collaborare e a seguire le tue indicazioni se sono indicazioni da leader adesso se volete saperne di più sui segnali calmanti ho invitato la signora turi drugas in persona a tenere un webinar per noi per dog caffè e per tutti coloro che vorranno partecipare e che si terrà il 10 gennaio alle 20 e 30 su zoom vi lascio anche il link in descrizione ma lo vedete anche qui qui da qualche parte per iscrivervi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao